La comunità come sta vivendo questa notizia e anche voi come amministrazione, quali sono le vostre impressioni di queste prime ore? Bisogna evitare di drammatizzare perché se noi diamo uno sguardo all'orizzonte internazionale gli altri paesi controllano di meno, drammatizzano di meno e non bisogna sottovalutare. Ovviamente se ne occupa anche di questo caso, dei casi che ci sono anche sull'area di Cattolica del Conca o su altre aree, il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, il Servizio Nazionale deve confermare se è positivo o meno questo caso, pare che non abbia avuto contatti se non con la madre e l'amorosa che sono risultati negative. Quindi speriamo che possa la situazione evolvere al meglio. Credo che abbia fatto bene il Presidente della Regione a demettere un'ordinanza perché è meglio prevenire che curare i mali e sono mali curabili perché da quello che abbiamo, dei dati nazionali che ci comunica il sistema sanitario nazionale, se non le persone che già sono in situazioni di forte gravità riescono tutti a recuperare e ad essere curati e guariti. Queste sono le parole del Sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, che naturalmente esprime attenzione per quello che si sta verificando, ma invita chiaramente a tranquillizzarsi da parte della cittadinanza e ad avere un atteggiamento positivo e reattivo e a non, se possiamo tradurlo, affasciarsi la testa prima ancora di rompersela. Le istituzioni e la fiducia nel sistema sanitario e nella Regione espresse dal primo cittadino sono molto chiari. Ma sentiamo anche cosa ne pensano i cittadini, la gente comune che sta vivendo queste ore dopo l'annuncio del caso di positività al coronavirus. Avete sentito che qui a Vallefoglia c'è questo caso? Sì, 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 stamattina il suo collega. Come la state vivendo un po'? Normalmente, perché tanto se si preoccupa uno è sempre quella, allora la prendiamo così con filosofia e si dice sì perché io lo studiate. Io non la vivo così male, nel senso che preoccuparsi un po' sì, ma mi sembra un po' l'esagerazione. Invece tra la gente, visto che lei... C'è un bel marasma. Sì, eh? Sì. Non l'hanno vissuta bene? Secondo me no, anche perché poi adesso col fatto qui proprio nella zona... Un po' di preoccupazione, qualcuno c'è. Si inizia a vedere qualcuno con le mascherine, ho visto. Il fatto che ci sia stato un caso qui nel vostro comune... Non c'è nessun problema. Non sposta niente? No, no, è sempre quella. Io sono tranquillissimo. Vita tutti i giorni? Sì, sì, è normale. Sì, sì, è bar, spesa. È casa. È casa. Un po' in ansia, dico la verità. Sì, quello sì. Anche il bambino, con le scuole chiuse comunque. Cerchiamo di viverla così. Andiamo avanti, vediamo. Non andare in posti affollati, però due robe di spesa servono, quindi. La clientela ha creato qualche apprezzione, se avete avuto domande strane, cose particolari, un po' insolite rispetto alla norma? Ma non più di un tanto, perché le domande sono sempre le solite, non è che questa abbia fatto la differenza, richiesto di materiale, di mascherine, di gel per le mani, ma nulla di più. Non è che c'è stato un allarmismo superiore, anche perché poi il comune è un comune molto efficiente, di conseguenza sono sicuro che non è una cosa che possa creare la differenza. L'atteggiamento quindi di reazione positiva che abbiamo riscontrato nelle persone che abbiamo fermato, intervistato poco fa, quindi è stato anche confermato dal farmacista che non ha rilevato in queste ore in cui c'è stato l'annuncio del tampone positivo, atteggiamenti particolari da parte della sua clientela.